Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola. E' tempo di speciale questa volta facciamo un video che ci avete chiesto voi onestamente in più di una persona e siamo rimasti un filino ino stupiti di questa cosa perché non ci aspettavamo un video del genere. Non era come un video comune che si fa. No esatto quindi abbiamo deciso di accontentarvi facendo questa flop 10 diciamo così cioè 10 giochi che in qualche modo ci hanno un pochino deluso. Federico magari ci spieghi un pochino quali sono stati i nostri criteri così mettiamo subito a tacere ogni possibile dubbio. Ecco secondo me comunque qualche critica arriverà lo stesso per la scelta dei giochi almeno per la mia scelta. Comunque si tratta di giochi non necessariamente che non ci sono piaciuti ma semplicemente per i quali avevamo un'aspettativa molto alta e poi in realtà il gioco ha un po' deluso quello che ci aspettavamo da lui diciamo. Più il gioco è vicino alle prime posizioni della classifica più la distanza fra le aspettative e quello che poi ci siamo trovati a giocare è grande. Ovviamente è una classifica soggettiva probabilmente non saremo neanche d'accordo fra noi. Assolutamente anzi la vedo grigia da questo punto di vista molto difficile che io e te siamo d'accordo su qualcosa. Difficile anche perché abbiamo gusti diversi sui giochi. Assolutamente. Vedremo adesso sono curioso di vedere anche io sono anche io sono molto curioso di vedere la tua appunto un video che ci avete chiesto voi davvero io sono rimasto come dicevo molto stupito da questa richiesta non ho molto capito il cioè cosa incuriosisce da questo probabilmente per capire i nostri gusti non lo so sono un pochino egocentrico da questo punto di vista. Direi bando alle ciance e direi di andare a vedere un pochino partendo dal numero 10 va bene allora inizio io con il mio numero 10 rullo di tamburi che diciamo che è un gioco che mi piace però avevo un'aspettativa veramente eccessivamente alta quindi è un gioco è di fatto uno dei miei giochi preferiti degli ultimi due anni però è che l'aspettativa era così alta che è un deluso infatti è posizione numero 10 e si tratta di battlecon war of indians era anche nella top 10 2018. Lo ricordo ma lo ricordo. Perché mi ha un po' deluso perché è veramente difficile trovare qualcuno con cui giocarlo e comunque è un gioco che ti fa veramente sudare il cervello. Non ho avuto modo di provarlo ma da come me l'hai descritto. O lo giochi così senza provare a vincere solo per divertirti però io non riesco a fare questo. Oppure se lo giochi in modo serio ci sono così tante possibilità che devi calcolare ogni turno che il cervello un po' ti esplode e quindi devi essere molto rilassato per giocare un gioco del genere e non puoi giocarlo con persone nuove perché prima di riuscire a conoscere un personaggio è un gioco da tavola che simula un po' i giochi come Street Fighter per capirci o Tekken. Quindi insomma è un gioco che è difficile mettere sul tavolo anche se dura poco e quando lo metti sul tavolo comunque ti fa un po' sudare per quanto il gioco sia molto bello. Infatti top 10. Perfetto benissimo. Mi hai un po' il tuo numero 10. Sono comunque stupito perché me ne avevi parlato molto molto bene. Effettivamente la motivazione che hai portato è molto azzeccata da questo punto di vista comunque. Il mio numero 10 invece è un gioco piccolo gioco di carte che ho avuto modo di giocare l'anno scorso per la prima volta. Un engine building molto carino per mi pare due quattro giocatori ed è Oh My Goods. Ok. Oh My Goods è un piccolo gioco di carte dove praticamente bisogna cercare di creare appunto il proprio motore di gioco più efficiente possibile con delle risorse appunto degli edifici che generano risorse di valore maggiore. Mi è piaciuto però mi aspettavo da un mi aspettavo fosse un gioco magari con un piglio con un'atmosfera un pochettino più sentita. Mentre invece di fatto... Cioè il legame fra meccaniche di gioco e ambientazione? No 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 proprio proprio mi ha dato proprio l'idea di essere quasi un gioco molto sterile e astratto e io invece mi aspettavo di avere maggiore soddisfazione nel giocarlo un maggiore coinvolgimento. Su questo devo dirti una cosa hai avuto le tue stesse sensazioni giocando Oh My Goods poi però ho implementato una variante che ha migliorato decisamente il gioco è una variante sul come pescare le carte che rende più strategico il gioco magari poi... Magari allora me la dici benissimo perfetto questi erano i nostri numeri 10 direi di andare a vedere i numeri 9 benissimo passiamo al numero 9 mi inizio io questa volta il numero 9 è un gioco che diciamo un gioco di destrezza barra party game che ho avuto modo di giocare a un paio di cartoon x fa un gioco appunto dove bisogna sostanzialmente emulare una determinata combinazione di palline dentro dei tubi ed è Dr. Eureka. Dr. Eureka era un gioco sul quale riponevo davvero tante aspettative pensavo che mi sarei divertito tantissimo e poi ho scoperto che di fatto la mia mente ragiona in maniera troppo lenta per poterne per poterne godere appieno nel senso che proprio mi sono messo lì al tavolo con altre persone e alla prima prova io giro la carta sto guardando la carta sto guardando i tubi prendo in mano i tubi per decidere che cosa fare gli altri hanno già finito e mi sono detto no qua c'è qualcosa che non va non lo so forse dovrei rigiocarlo dovrei prenderci un attimo di esperienza però ci sono rimasto veramente male è proprio una cosa che mi è rimasta qui. ti anticipo che anche uno dei miei dei giochi nella nella mia top 10 è nella mia top 10 per questo problema proprio un tipo di meccanica con cui non riesco mai a vincere quindi alla fine adesso. Sì 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 esatto cioè io partivo dicendo mi divertirò tantissimo non vedevo l'ora di provarlo e addirittura volevo acquistarlo quindi ecco cioè inizialmente dicevo no non ce l'ho non ce l'ho infatti dicevo devo assolutamente acquistarlo perché mi piacerà tantissimo per fortuna che l'ho provato prima perché veramente non perché sia brutto il gioco sia chiaro è che io proprio non ci riesco è più forte di me quindi ecco il mio numero 9 è Dr. Eureka. Il mio numero 9 è Onshu che abbiamo giocato anche insieme una volta. Come mai Onshu? A me non è dispiaciuto vorrei sapere. Diciamo anche qua cioè i giochi a parte quelli proprio in cima alla top 10 non sono giochi che non mi piacciono sono giochi che mi hanno deluso la mia scuola. le mie aspettative e per questo gioco la parte del gioco che ha deluso le mie aspettative è il meccanismo delle se possiamo chiamarle aste insomma si mettono si mette si gioca una carta al centro del tavolo e a seconda del numero poi si ogni giocatore mette una carta e quello che ha giocato la carta con il numero più alto sceglie per primo quale delle quattro carte pescare però a me ha dato l'impressione che questo meccanismo non ti permette di è difficile riuscire a capire quando è più utile giocare una carta alta o quando non giocare una carta alta perché se io gioco la carta alta non è necessariamente perché voglio quella carta magari voglio la carta di un altro quindi rischi di mettere giù una carta alta poi prendi una carta diversa e dai all'avversario una carta forte oppure vuoi giocare una carta che è bassa però non lo so non mi ha convinto tanto questo meccanismo delle aste mi è piaciuto invece molto il meccanismo della costruzione del regno diciamo e sì non dire che non mi ha convinto e ho trovato anche questi due questi due meccanismi un po messi insieme così che non hanno molto molto cioè il gioco sarebbe più bello senza il meccanismo delle aste secondo me trovo questi due meccanismi quasi come due giochi separati che non sono molto coesi fra di loro però il gioco non è un brutto gioco avevo aspettative particolarmente alte e mi ha un po deluso per questo aspetto ok vediamo il mio numero 8 è un gioco che abbiamo giocato credo qualche anno fa anche insieme io poi l'ho giocato molto si tratta di lords of water deep è un piazzamento lavoratori semplicissimo credo che di piazzamento lavoratori più semplice di lords of water deep forse solo stone age e pochi altri però proprio per questa semplicità non cioè non ci sono così tanti giochi che che giocherei piuttosto di giocare lords of water deep che magari sono dello stesso genere che è un gioco fa che ha tutte le meccaniche essenziali che fanno un buon piazzamento lavoratori ma non ha niente di speciale e anche la tematica è poco legata è poco tradizionale per un piazzamento lavoratori e potrebbe essere un punto a favore ma molte persone non sono attratte dal fantasy e quindi vengono allontanate dal gioco insomma è un gioco che non non ha niente di sbagliato ma non ha niente niente che mi faccia venire voglia di giocarlo per più di una partita quindi sì numero 8 lords of water deep ok no a me mi ricordo l'ho giocato con te un paio di volte non mi era dispiaciuto probabilmente forse giocare è un bel gioco sì 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 probabilmente poi nel tempo cambiando un po i gusti cambiando un po avendo provato molti giochi simili che mi piacciono di più esatto esatto allora il mio numero 8 invece è un gioco un piccolo party game che gioca con fino a un elevatissimo numero di giocatori mi pare fino a 13 che appunto abbiamo avuto modo di giocare allo scorso capodanno tutti insieme o forse tu eri no 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 tu c'eri ancora c'eri ancora ed è masquerade ok masquerade praticamente è un titolo dove appunto ognuno ha un'identità segreta sostanzialmente può bisogna arrivare a un certo numero di monete se non vado errato però ecco si basa tutto su un bluff finto bluff cambiare la carta fingere di cambiare il personale insomma avevo un'aspettativa molto elevata nei confronti di questo masquerade e purtroppo un pochettino sono rimasto deluso deluso un po anche a me perché onestamente mi aspettavo di trovarmi di fronte a un gioco non lo so più gustoso più lineare più chino più dove fin dalla prima partita fosse chiara quale era la strategia da prendere invece mi sono trovata la prima partita a giocare in maniera assolutamente casuale non sapevo perché stavo giocando in maniera casuale per cui ecco carino lo rigiocherei alla fine perché comunque mi sono divertito materiali bellissimi scatola portatile però ecco mi ha lasciato un pochettino di amaro in bocca non lo posso non lo posso negare benissimo il numero 7 allora il mio numero 7 è un gioco che io attendevo con ansia di poter provare monopoli edizioni napoli esatto no quello che voglio provare sì lo so anch'io voglio provare voglio vedere che cosa sono riusciti a tirar fuori però ecco era un gioco che attendevo con ansia di poter mettere sul tavolo sono riuscito a metterlo sul tavolo e mi sono convinto veramente che devo assolutamente provarlo con delle espansioni perché il gioco base che pensavo fosse divertente non lo so non mi ha lasciato grandi sensazioni ed è Gloom Gloom è un gioco praticamente molto interessante dove appunto la meccanica di base è cercare di far morire il più infelici possibili i nostri i componenti della nostra famiglia e di far felici i componenti delle altre famiglie in senso un pochettino quello componenti davvero molto belli perché appunto sono queste carte trasparenti che si possono sovrapporre quindi anche il gioco ha dei disegni un po' lugubri ma piacevoli se vogliamo da questo punto di vista però non lo so ho trovato un po' da alcuni difetti ad esempio il fatto che le carte siano molto piccole comunque le scritte sulle carte sono molto piccole quindi è anche difficile leggerle è difficile vedere magari dall'altra parte del tavolo proprio perché sono appunto queste carte lucide non lo so l'ho trovato un pochettino ripetitivo ho letto che con le espansioni potrebbe un po' migliorare se avrò occasioni lo proverò con delle espansioni però onestamente non so se avrò occasione perché non mi ha convinto fino in fondo e se un gioco non mi convince fino in fondo già dalla prima partita non lo orientavolo volentieri però mai dire mai sono davvero curioso sotto sotto di vedere appunto come funziona con le espansioni tu numero 7 il mio numero 7 è un gioco che ho comprato anni fa l'ho giocato poco a due giocatori e non mi è piaciuto per niente con 3-4 migliora un po' si tratta di Anabi è un classico insomma un classicone ho due giocatori diciamo io guardando un po' le recensioni anche in internet eccetera si diceva comunque che è meglio a 3-4 giocatori però comunque a 2 non è male invece a 2 secondo me non è meno per me non è giocabile perché diventa proprio una cosa a parte che è più difficile ma è anche stressante per problemi di comunicazione con l'altra persona e quindi cercare di anche stabilire le regole di comunicazione che non sono proprio chiarissime nel manuale di istruzioni diventa quasi lo percepisco quasi come barare oppure però se non bari rendi il gioco troppo difficile devi probabilmente giocarlo con le persone giuste io non l'ho giocato con le persone giuste quindi mi ha un po' deluso anche se in realtà con alcune delle persone con cui l'ho giocato ha riscosso parecchio successo quindi credo proprio che sia una questione anche personale però visto che sono pareri soggettivi ho dovuto inserirlo in classifica perché è uno di quelli che mi sono venuti in mente immediatamente quando insomma abbiamo pensato alla flop 10 quindi Anabi numero 7 allora siamo al numero 6 questo gioco è nella mia flop 10 per ragioni simili al tuo dottor Eureka si tratta di Tides of Time le maree del tempo che è la versione la prima versione che è uscita di Tides of Time di cui abbiamo fatto anche la recensione esatto ma penso che comunque anche a provare gli altri avrei le stesse sensazioni perché sono molto simili perché ha deluso le mie aspettative perché non riesco a battere mia moglie cioè nel senso probabilmente non riesco a battere nessun essere umano perché non ho molta memoria questo meccanismo del drafting a due giocatori richiede una memoria perfetta si è un draft cioè è un gioco di draft a informazione completa dove se tu non stai attento alle carte vieni fregato pensiamo a un gioco come Sushi Go ok è teoricamente informazione quasi completa ma ci sono dei passaggi intermedi fra te e il giocatore che sta magari da tua destra e quindi nessuno o quasi nessuno sarà in grado di ricordare esattamente tutti i passaggi e poi comunque magari io non so che carta ha preso il giocatore davanti a me perché c'erano altri due giocatori prima quindi c'è un po' di elemento fortuna un po' di sorpresa con Tides of Time informazione completa se io non mi ricordo una carta e mia moglie ha una memoria fotografica è impossibile batterla quindi cerco di barare con un'altra versione di Tides of Time mettendomi delle carte nella manica però purtroppo mi battero va bene è molto interessante il perché non ti piace Tides of Time mi piace davvero molto esatto comunque no il mio numero 6 allora non è che non mi piace non mi piace però mi piacerebbe di più se vince se non mi piace se due persone hanno una memoria simile può essere un bel gioco per carità il mio numero 6 invece è un gioco del quale ho fatto la recensione un gioco dove un metagioco in realtà nel senso che non è gioco quello che c'è nella scatola ma è gioco quello che portano i giocatori al tavolo come esperienza di gioco e via dicendo ed è Intrigo Palazzo o Intrigo nella sua versione inglese gioco appunto di tutto di mazzette di promesse insomma mi è piaciuto e davvero è un gioco che ho gradito l'ho giocato anche molto volentieri per le cattiverie che ci siamo detti eccetera ma proprio perché è un gioco così dipendente dai giocatori al tavolo dovete veramente avere il gruppo giusto se lo giocate mi ha deluso perché mi aspettavo potesse essere un gioco che gradivo con un più ampio parco di giocatori purtroppo invece mi sono reso conto che davvero in certe situazioni la gente non barava non si tirava non si faceva appunto gli sgambetti quindi ecco ha sicuramente perso un pochino del suo pepe benissimo entriamo nella top 5 e tocca a me iniziare ecco il mio numero 5 è un party game un party game sul quale nutrivo delle grandi aspettative anche perché era stato presentato se non sbaglio come Spiel des Jahres quindi adesso ci arriviamo insomma era un gioco a squadre ed è nome in codice della versione la versione base sto parlando della versione base no perché le altre versioni non ho avuto modo di provarle però mi aspettavo davvero molto di più gioco con una variabilità infinita longevità pazzesca però non mi aspetto una cosa così da un gioco da un party game odierno mi è sembrato quasi di vedere una versione modificata di altri tipi di giochi magari un pochettino più più vecchiotti dal punto di vista anagrafico non lo so io questa cosa di stare a squadre del cercare è bello giocare da soli da soli al tavolo squadre allora aspetta è bello giocare no è bello giocare come capo squadra ma non come squadra ok cioè mi piace essere la persona che inventa le combinazioni per cercare di far indovinare le parole ma non mi piace assolutamente essere in squadra questa cosa qua mi ha veramente mi è veramente deluso di questo gioco poi lo gioco volentieri se capita non lo sto dicendo però ecco se posso cerco di giocare come capo squadra ok il mio numero 5 è lettere da whitechapel lo conosci? sì non l'ho mai avuto modo di provarlo però uno di quei titoli che ho qua ecco allora diciamo che è un gioco investigativo asimmetrico dove una persona un giocatore controlla Jack lo squartatore e da una a quattro giocatori controllano gli investigatori che devono catturare Jack lo squartatore prima che uccida tutte le sue vittime c'è un accordo diciamo in internet sul fatto che è un gioco che dà meglio di sé a due giocatori e questa cosa mi dà un po' fastidio perché di fatto se giochi in due il giocatore che gioca con Jack lo squartatore ha un ruolo che è identico a giocare in tre quattro cinque invece il giocatore che controlla gli investigatori deve comunque controllarli tutti e quattro non importa il numero di giocatori se giocate in tre dovete controllare comunque tutti e quattro se giocate in quattro è sempre quattro investigatori e giocando in due certo controlli tutti gli investigatori quindi non hai bisogno di il problema principale a giocare in cinque è che si crea un effetto leader visto che ha informazione completa il giocatore che conosce meglio il gioco dice agli altri cosa fare certo e in più è anche difficile comunicare fra gli investigatori perché se no si rivelano delle informazioni a Jack lo squartatore che possono essere utili a farlo vincere quindi se sei da solo ovviamente sei molto avvantaggiato no se sei se giochi in cinque per esempio se giochi in se giochi dico in due uno contro uno sei più avvantaggiato perché hai più possibilità di muovere senza farti beccare da Jack insomma senza dare informazioni al giocatore avversario esatto però devi controllare anche quattro investigatori e in teoria non dovrebbe essere cioè non è il modo in cui il gioco doveva essere è stato concepito è stato concepito come un gioco di fatto che avrebbe dovuto dare meglio di sei in cinque giocatori di fatto è meglio in due però non posso fare a meno di pensare che sarebbe un gioco migliore se fosse stato concepito direttamente per due giocatori e quindi per questo mi ha un po' deluso anche perché comunque avevo aspettative molto alte per il mio numero 4 è un gioco che da cui e qui iniziamo a parlare di giochi che da cui mi aspettavo veramente tantissimo e che mi hanno deluso parecchio il numero 4 è le leggende di Andor che fra l'altro ho venduto a Guido quindi forse non dovrei metterlo comunque è considerato un bel gioco a me ho un po' deluso mi sento leggermente fregato tra l'altro ti annuncio che altri due giochi della mia top 4 te li hai venduti a me no no due 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 che bello è bello sapere che mi vendi i giochi no ma sono giochi che hanno comunque sono magari nella top 300 certo ma è bello pensare che tu me li vendi dicendo sono belli sono bellissimi no e meritano un giocatore che li apprezzi capito le leggende di Andor in breve perché mi ha un po' deluso allora i componenti bellissimi l'ambientazione a me piace molto il fantasy mi ha deluso per il tempo necessario per fare il setup che è molto più di quello che vorrei e il fatto che le prime due leggende il gioco è diviso in mi sembra cinque leggende che sono cinque scenari di gioco sono di fatto un tutorial che non è saltabile perché il manuale non è non è un manuale completo devi farti il tutorial per imparare il gioco che in teoria dovrebbe rendere l'esperienza più piacevole però di fatto invece di imparare il regolamento in 30 minuti devi impararlo in due ore perché devi fare il setup delle prime due leggende e quindi è un gioco che ci mette un po' a carburare e comunque io poi sono arrivato confesso che non sono arrivato oltre la terza leggenda anche la terza leggenda poi non mi ha convinto molto anche il fatto che hai dei nemici in un mondo fantasy però devi cercare di non di non uccidere i nemici perché sennò perdi tempo e quindi è un po' stona con l'ambientazione ho capito ho capito però insomma è stato apprezzato da molti quindi quindi è una fregatura ai tuoi certi limiti ti piace ok sì di sicuro il mio numero 4 in realtà l'ho inserito per un ultimo simile no no non l'ho venduto a te l'ho inserito però per un motivo simile a questo cioè il fatto che ci metta un po' a carburare mettiamola così ed è un gioco deduttivo sì e si chiama 13 indizi 13 indizi è un gioco appunto dove bisogna cercare di indovinare appunto una serie di carte che sono poste la combinazione di carte presente davanti a voi che vedono tutti gli altri tranne voi facendo una serie di domande una serie insomma un gioco puramente deduttivo sono partito pensando che sarebbe stato il mio nuovo gioco preferito perché era veramente invece resta ancora monopoli il tuo gioco esatto resta monopoli ma anche tabù sotto certi aspetti mi piace tantissimo tabù no sto sto ovviamente scherzando è solo monopoli solo monopoli monopoli tutta la vita comunque parco della vittoria rules no scherzi a parte mi è piaciuto però dopo qualche partita e io questa cosa qua mi ha veramente lasciato perplesso perché ho iniziato la prima partita con dei giocatori che io ho naturalmente perso è rarissimo che vinca i giochi e mi sono trovato veramente a giocare facendo i miei ragionamenti pensando di fare un ragionamento corretto e poi arrivava uno e tam vinceva e io dicevo come ha fatto a vincere poi pian pianino ci si rende conto che tutte le informazioni anche quando non siete chiamati in causa sono importanti però non è di immediata comprensione ed essendo un party game questo potrebbe un pochino tagliare le gambe a qualcuno magari che non è non è proprio esperto di giochi da tavolo lo gioca per la prima volta e ci resterebbe magari a mio avviso un pochettino male ok entriamo nella top 3 adesso quindi iniziamo proprio a parlare di di tanta della vera propria ciccia mettiamola così e il mio numero 3 è un gioco davvero sul quale puntavo veramente tanto anche qui una sorta di mini party game se vogliamo ha messo tanti party game infatti infatti dopo magari ne parliamo anche di questa cosa del genere di giochi un gioco appunto sul quale riponevo tanta tanta aspettativa perché il meccanismo mi sembrava molto interessante questo punto di ruoli nascosti della truffa ok del quale ho anche fatto la recensione e confermo quello che dico nella recensione sembra davvero un gioco che è bloccato se vogliamo nel loop del dover mentire perché se dici la verità rischi di vincere ok e non è una vittoria che dà soddisfazione non ti sembra di vincere perché sei stato bravo ma ti sembra di vincere per caso perché gli altri pensano che tu stia mentendo in realtà non stai mentendo mentre invece in altri giochi dove magari c'è questo bluff contro bluff pensiamo a Sheriff of Nottingham la cosa funziona benissimo in questo caso boh non mi ha non mi ha convinto appieno nonostante sia un gioco che ha anche magari un certo valore storico boh mi aspettavo davvero di più da questo la truffa ecco parlando di valore storico direi che mi hai dato un assist perfetto per il mio gioco visto che è un gioco che credo sia stato creato negli anni 70 non sono sicuro però comunque è un gioco molto antico si tratta di Sherlock Holmes consulente investigativo che non so neanche se chiamarlo un gioco perché è più sì è un gioco però non un gioco da tavolo perché non c'è una mappa di Londra che serve più come cioè non ci si sposta sulla mappa ma serve solo per bisogna solo consultarla c'è un libro di diciamo di un po' come in come si chiama quel gioco Tales of the Raven Nights esatto bravissimo dove vedi le piste che devi consultare per risolvere il caso poi c'hai dei giornali diciamo creati appositamente con con vari articoli che molti ti sviano non c'entrano col caso e devi semplicemente investigare in gruppo per trovare la soluzione a un caso non mi è piaciuto cioè non è che non mi è piaciuto mi è piaciuto abbastanza però mi aspettavo qualcosa di molto più speciale quali sono i i punti che che mi hanno deluso innanzitutto ci sono due casi che sono irrisolvibili sono diciamo casi con degli errori proprio nella nelle meccaniche che ti impediscono di risolvere il il caso con gli indizi che hai a disposizione sono il caso mi sembra numero 3 e numero 6 e ce ne sono altri che di fatto hanno degli indizi che difficilmente ti fanno risolvere il caso nella maniera che era stata pensata probabilmente dagli sviluppatori e magari lo risolvi lo stesso ma più per intuizioni tue che per veramente per gli indizi quindi ecco questo mi ha un po' rovinato l'esperienza per me poi con le espansioni potrebbe migliorare non le ho provate quindi insomma siamo già arrivati al numero 2 un altro gioco che mi ha un po' deluso perché non è esattamente un gioco o meglio si tratta innanzitutto di Spyfall che fra l'altro l'ha venduto a te è un bel gioco è un bel gioco il problema è che sarebbe meglio senza le carte e le carte sono l'unico componente del gioco quindi io mi sono scaricato adesso un'applicazione fra l'altro gratuita che è l'applicazione di Spyfall cioè l'applicazione del gioco di Spyfall Spyfall è nato come gioco sociale diciamo senza necessità di carte o niente e l'hanno trasformato poi in un gioco per così dire da tavolo però ho notato che senza le immagini delle carte è più facile giocare si può essere anche più creativi e in più c'è un grande problema almeno nella prima edizione di Spyfall non so se l'hanno risolto è che non c'è non ci sono delle delle plance giocatore dove un giocatore può vedere tutte le carte disponibili all'interno del gioco e senza conoscere tutte le carte all'interno del gioco è difficile capire soprattutto se sei la spia capire che cosa sarebbe meglio dire e cercare di non farsi beccare insomma quindi io ho stampato delle immagini da internet con tutte le carte e così i giocatori possono tenersi davanti quando devono parlare quando è il loro turno però sarebbe qualcosa che avrebbe dovuto essere messa nella scatola già da subito e questo mi ha deluso parecchio c'è questa immagine delle carte nella scatola ma è solo una ed è all'interno del manuale quindi bisogna aprirlo e al centro del tavolo tutti i giocatori devono spoggersi per vederlo però ovviamente se ti stai sporgendo vuol dire che tu sei la spia e quindi diventa veramente difficile un pochettino difficoltoso da gestire mi ricordo questa problematica quando ci avevamo giocati insieme insomma che aveva lasciato tutti un pochettino perplessi cioè per fortuna che tu avevi stampato appunto questa sorta riassuntino delle carte ecco per me Spyfall è un bellissimo gioco però non serve comprarlo potete scaricare l'app gratuita ed è legale tra l'altro perché è un gioco che questa app è nata prima del gioco e giocate a Spyfall forse anche meglio che con la scatola del gioco e quindi è un po' un gioco inutile insomma cioè è un gioco bello da giocare ma è inutile comprare la scatola del gioco infatti l'hai venduta a me comunque andando avanti però è bello vederlo si si fa la sua porca figura in fondo allora il mio numero 2 è un altro party game avrete notato che sto mettendo veramente un sacco è la flop 10 dei party game esatto che io smetterei di prendere party game sì esatto forse è il caso perché visto non soddisfano mai le mie aspettative no è un party game che può giocare fino a 6 giocatori e volendo con una variante fino anche a 12 ed è in alti calici Razer Goblets un gioco appunto dove lo scopo è cercare sostanzialmente di avvelenare gli altri e cercare di non essere avvelenati il senso è un pochettino quello allora mi permette di fare velocemente due discorsi uno sulla versione del gioco base dove mi sembra che ci sia un gran gran caos al tavolo è vero che bisogna cercare di mantenere sott'occhio quello che succede su almeno un 2 barra 3 calici perché così facendo sia almeno la certezza che in quel tal calice non ci sia il veleno in quel tal calice invece si è avvelenato quindi diventa un pochettino fondamentale fare questo procedimento però l'imprevedibilità della partita mi ha dato l'impressione che io non avessi alcun controllo su quello che stava succedendo con minimo controllo e questo mi ha molto deluso in 12 il discorso è simile mi è piaciuto un po' di più sì sono riuscito a provarlo in 12 parenti eccetera abbiamo fatto un paio di partite mi è piaciuto un filino di più perché questa meccanica del servitore che può esserti leale o meno lo rende forse un filino più gradevole però cavolo 12 persone al tavolo sono difficili da radunare quindi non lo so ti serve anche un tavolo grosso no non necessariamente un tavolo grosso perché di fatto i componenti sono abbastanza pochi nel senso che sono i calici sono 6 calici perché uno è il padrone l'altro il servitore qui basta stare seduti uno vicino all'altro sia poco materiale diciamo così però ecco mi rendo conto che cavolo per 12 giocatori sia difficile da mettere al tavolo non lo so mi ha talmente lasciato la mare in bocca la versione base a 6 giocatori che anche la versione a 12 si mi è piaciuta ma non fino in fondo benissimo siamo arrivati in fondo al numero 1 inizio io e numero 1 è probabilmente la mia più grande delusione ludica anzi beh l'ho messo al numero 1 quindi per forza la mia più grande delusione ludica nel senso che era un gioco che volevo assolutamente provare non vedevo l'ora di metterlo sul tavolo volevo metterlo sul tavolo volevo provarlo e cavolo non mi ha convinto fin dalla prima partita e non c'è più riuscito a convincermi zero between two cities ah sono abbastanza d'accordo between two cities veramente io non riesco a capire come mai perché le premesse c'erano un titolo comunque togliamo la grafica che se vogliamo è proprio brutta però comunque un titolo con una meccanica interessante il fatto di dover gestire due città con i propri vicini di tavolo e la città minore con il minor punteggio è quella che ti fa fare davvero punti dicono che il crossover con Castles of Mad King Ludwig sia migliore me lo auguro spero di poterlo provare appunto di potervi dare un parere incrociato se vogliamo sarebbe bello magari provarli tutti e tre e fare appunto visto che hanno già provati due mi piacerebbe provare il crossover però ecco davvero no non mi ha convinto non mi è piaciuto mi è sembrato un gioco con pochi spunti creativi è vero che si parla molto con i propri vicini di banco di vicini di tavolo di banco perché noi andiamo ancora alle scuole elementari esatto si con animo appunto da scolaretto no ecco però il fatto appunto che alla fine parli solo con i tuoi vicini di tavolo e dall'altra parte del tavolo visto si può giocare fino in sette cioè quello che succede di là non vi interessa assolutamente niente quindi ecco boh mi dispiace mi dispiace davvero tanto era un titolo che aspettavo tantissimo però purtroppo mi ha deluso si guarda l'avrei messo anch'io nella flop 10 se non fosse che non avevo altissime aspettative quindi non mi è piaciuto però non mi aspettavo granché certo e il mio numero 1 invece mi aspettavo parecchio questo gioco perché comunque penso che sia ancora nella top 100 di Boy Game Geek che comunque all'epoca quando lo provai era uno dei primi giochi che ho provato e mi aspettavo veramente qualcosa di eccezionale anche perché Stefan Feld è uno dei grandi insomma del gioco da tavolo penso di aver capito e si tratta del gioco secondo me decisamente il più brutto di Stefan Feld o comunque il più brutto di quelli che sono considerati capisaldi del gioco da tavolo lo sai che qua ti beccherai una valanga di insulti vero e si tratta di questo gioco qua che lo tiro anche fuori che mi fa un po' ribrezzo ma lo prendo ed è Traian allora diciamo è un gioco che potrebbe essere anche alcune alcune meccaniche del gioco sono interessanti purtroppo non è un gioco ma sono sei giochi o più sono come dei mini giochi messi insieme che possono essere anche interessanti presi singolarmente ma perché le abbiamo messi insieme nello stesso gioco mi sembrano proprio meccaniche slegate e poi c'è anche la meccanica del Mandala si chiama del Mancala che nella nuova edizione credo che non ci sia questa comunque è l'edizione classica e la meccanica del Mancala secondo me impedisce di essere al tavolo cioè ogni giocatore è così concentrato sul proprio Mancala che è come se giocasse un solitario e poi ci si ritrova al centro del tavolo per il tabellone per giocare sui vari mini giochi però di fatto mi è sembrato di giocare sei giochi mediocre magari uno o due interessanti insieme e con questa meccanica del Mancala che rende più difficile l'interazione proprio l'interazione fra i giocatori cioè non si riesce quasi a parlare perché devi essere concentrato sul tuo Mancala fra l'altro la grafica la copertina è la cosa migliore del gioco a livello di artwork perché è veramente è veramente brutto certo ci sono altri giochi di Stefan Feld per esempio i Castelli di Borgogna che hanno un artwork particolarmente brutto però sono molto sono molto belli Castelli di Borgogna è uno dei miei giochi preferiti e questo invece mi ha veramente deluso infatti sarà che l'ho battuto è l'unico gioco è l'unico gioco in questa flop 10 che non mi piace cioè gli altri mi piacciono ma avevo delle aspettative particolarmente alte quindi mi ha deluso questo invece mi ha deluso e devo dire che non lo rigiocherei e niente Brian qui questo di sicuro questa mia dichiarazione ci provocherà un sacco di non mi piace sì confermo secondo me con questa ti sei tirato la mazza sui siedi però è un parere soggettivo so che a molte persone piace per carità ad esempio a me è piaciuto non è il mio preferito di Feld secondo me non dovrebbe essere nella top 100 secondo me però anche perché ci sono altri altri giochi di Stefan Feld che non sono nella top 100 ma sono migliori di questi secondo me benissimo abbiamo concluso questa flop 10 video appunto che ci avevate chiesto ci siamo scambiati un attimo le liste per cercare magari qualche commento da fare non so se tu hai qualche cosa da dire Federico leggendo la mia lista alcuni dei tuoi giochi non li ho provati devo dire che Between Two Cities sono d'accordo con te non mi è piaciuto particolarmente la truffa in altri calici non l'ho provati nome in codice devo dire che mi è piaciuto non avevo aspettative particolarmente alte perché non è molto il mio genere però è un gioco che mi è piaciuto Masquerade mi è piaciuto abbastanza ma ci sono giochi decisamente migliori nello stesso genere e sì questi sono insomma i giochi che mi hanno colpito di più della tua lista della tua invece devo dire che non lo so ci sono dei titoli che mi piacerebbe molto provare uno su due in particolare che sono appunto lettere da Whitechapel e Sherlock Holmes consulente investigativo e infatti mi hanno un po' lasciato mi hanno lasciato male perché insomma sono giochi su cui ripongo delle grandi aspettative comunque come detto sono giochi che mi sono piaciuti avevo delle aspettative esatto questo secondo me è importante che passi con il messaggio non sono giochi che diciamo non ci piacciono in senso assoluto e poi è un parere soggettivo assolutamente ancora più che con la top 10 la flop 10 è veramente un parere soggettivo no no su questo sono assolutamente d'accordo notavamo appunto che ho messo parecchi party game forse perché paradossalmente party game è uno dei generi che preferisco nei giochi da tavolo però ecco proprio perché è uno dei generi che preferisco sono anche molto esigente o comunque i giochi diciamo di livello medio basso di difficoltà sto parlando quindi purtroppo tanti giochi secondo me poi arrivano a deludere le mie aspettative perché non hanno quel quid che poi me li fa ricordare me li fa amare fin dalla prima partita quindi ecco non lo so secondo me sono venute proprio fuori le caratteri un pochino i nostri gusti non so se era per questo che ce l'hanno chiesto appunto di farlo però ecco è stato comunque interessante per me è stato molto difficile creare questa lista assolutamente assolutamente perché di solito comunque prima di prendere un gioco o di provarlo guardo molto le recensioni acquisto solo se sono sicuro e quindi insomma è stato abbastanza difficile non volevo inserire giochi che ho provato soltanto una volta per evitare perché è difficile giocando soltanto una volta è difficile capire se un gioco veramente vale la pena certo diciamo che ecco secondo me sono venuti fuori un po' i nostri gusti è venuto fuori un po' anche la difficoltà di trovare diciamo che i giochi sono un po' come la pizza sono sempre buoni anche se in realtà non sono eccezionali a me piace poi giocare tutti insieme quindi anche se il gioco non è eccelso passa forse un po' in secondo piano questa è sempre un'opinione personale però ecco anch'io mi sono trovato molto in difficoltà tant'è che posso dirvi che ad eccezione della top 3 tutti gli altri titoli un pochettino se la giocavano quindi si è trattato davvero di cercare di capire quale fosse quello che aveva magari la maggiore differenza tra aspettativa e realtà molto difficile però ecco sono comunque contento di averlo fatto speriamo soprattutto di aver reso contenti voi naturalmente e come sempre vogliamo sapere i vostri commenti fateci sapere se siete d'accordo probabilmente non sarete d'accordo su Tryan di sicuro fateci anche sapere la vostra flop 10 si esatto fateci magari sapere se ci sono dei titoli che vi hanno un pochettino deluso e perché sono molto curiosi perché sono argomenti di conversazione molto interessanti secondo me vi ricordo come sempre che sono attivi la pagina Facebook per appunto avere un qualche aggiornamento il canale Telegram dove vi segnaliamo ovviamente tutti tutti gli aggiornamenti degli ultimi video usciti e via dicendo e Instagram che abbiamo appunto aperto da poco sul quale proprio c'è una sorta di dietro le quinte vi facciamo magari vedere delle immagini delle nostre partite via dicendo qui una cosa molto colloquiale dove potete comunque raggiungerci facilmente sia appunto su Instagram Facebook e via dicendo ovviamente sbizzarritevi nei commenti che è sempre gradito vi ringraziamo come sempre per aver seguito un altro video dentro la scatola e noi come sempre ci vediamo al prossimo video un altro video Grazie a tutti.